La prova rapporti la facciamo in ordine del numero, quindi inoltre che i ragazzi si accaltano sul tavolo, in ordine del numero, la prova rapporti, la firma e diciamo che lo deve fare, i soliti 10, all'arrivo i primi 5. Seguiti da ladrone, numero 17, ha riconfermato il numero 20, i primi, Tommaso Brunori, entrambi della Forte Braccio da Montone, i primi della Forte Braccio da Montone, che ha dominato, complessificato il numero 20, la volata del gruppo, mantenersi ai lati, Grazie. 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 Traguardo volante, traguardo volante. Traguardo volante, traguardo volante. 72. Scriviamo, ritiriamo, Pietro, a lei. Più dietro, più dietro. Via, raga, via, raga, via. Traguardo volante. 65. 77. E applauso di voi, salutario. E applauso. Seconda posizione. Il compagno di squadra. Valentimoro, la mia vita della garanta. Siamo vinta del numero 46, Elia Tesei, dell'anno di Guantustano. 75. 63. Grazie a tutti. Sì, adesso vi hanno avanzato. Vieni. 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 La voglia di stare in mezzo ai giovani e ai ragazzi. Vi ricordo che le foto possono essere tirate qui nel gazebo del nostro fotografo. Vieni. 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 Vieni.